Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con le missioni secondarie di Assassin's Creed Syndicate e andiamo a farci una nuova missione insieme a Karl Max. Ricordi di Karl Max, intervento anarchico. Un lavoratore in tutto vuole vendicarsi usando... Ah, il luto vuole vendicarsi usando esplosivi dei Templari. Fermalo prima che qualcuno si faccia male. Povero Frank Morris. Suo figlio è morto distenti al termine di un turno da 18 ore. Frank soffre molto e accusa il governo di non avere protetto i diritti dei lavoratori. Non posso biasimarlo per la sua rabbia, ma temo che passerà il segno. Intenta rubare un carico di litro e giusto usarlo per assaltare la sede del Parlamento. Questa zona è vietata! E distruggere persone e distruggere la proprietà non serve. La democrazia è la via per il socialismo. Vi prego, fermatelo, prima che qualcuno ci rimetta la vita. Penso che sia diretto alla City di Londra, in questo momento. Ok, andiamo a cercare la carrozza prima che succedano cose rognose. Che cacchia, qua è pieno dei nemici, che rottura di scatole. Tra i poliziotti, tra i blighthorns e via dicendo. Non si riesce a stare un attimo tranquilli. Continuiamo di qua. Ok, troviamo la carrozza. Eccola gli esplosivi. Nessuna traccia di quel morli, spero. Eccola. Presa. Cosa diavolo? Un'amica di Karl Marx. Ora zitto, devo concentrarmi. Dite a Marx che non voglio il suo aiuto, né il vostro. Pazza. Cosa volete che faccia? Anche un cane morde se lo prendono a cacci. Quanto è una carrozza che ti insegna. Non si è accorto nessuno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Nitroglicerina. Poi esplode il mondo. Bravissima. Cacchio. Ah no, siamo arrivati insieme. A sinistra. A destra. Con calma. Ehi, ehi. Vedete che mi è passato. Su, levati. A destra. Prendi questo. Adesso ci devono poi esplode, raga. Ok, a sinistra. Oh god, need to go. A sinistra. A sinistra. Sunt up, sunt up. A destra. Dai, dai. Chi è una corsa contro il tempo e contro le esplosioni qua. Chi è quella gente? Sono individui molto determinati. Siamo bloccati qui finché non si chiama eliminarli. Ma dei amici nostri, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Vaglia. Vaglia. Forza. Perfetto. Ottimo. Mamma mia. Fossa cattiveria. Uno. E manca l'ultimo. Mori. Oh, non c'erano i colpi? Perfetto. Aspetta, eh. Che recupero un po' di robetta. Andiamo un attimo, eh. Non si sa mai. Qua servisse qualcosa. Non ci sa niente. Qua posso depredare. Ok, andiamo. La nitroglicerina è andata. Siete felice? Niente affatto. Dubito che useranno gli esplosivi per un fine più nobile. Diamine. Devo scoprire dove li hanno portati e perché. Forse posso aiutarvi. Venite a Satwar che appena potrete. Ottimo. Ricordi di Karl Max. Intervento anarchico completato. Nuovo puntabilità da utilizzare, va? Adesso, ragazzi, ci andiamo a aprire questo punto di sincronizzazione e poi ci salutiamo così siamo fatti un'altra bella missioncina secondaria con Karl Max. Benissimo. Eccoci qua. Eccoci qua. L'Areal con l'altra missione di Karl Max. C'è un botto di roba da fare, ragazzi. C'è proprio tanto da fare. Ok, ragazzi. Con il balzo della fede vi saluto. Spero che il mio video trassi a vostra di mente e se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. Ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.